Il Museo dei Mezzi di Comunicazione racconta tutto ciò che riguarda l'utilizzo dei giorni nostri, cioè la storia del telefono, la storia di internet, la storia del cellulare, tutti questi mezzi che ancora più in un momento come quello che è stato comunque di isolamento, di pandemia, sono stati comunque ancora più valutati perché comunque senza internet, senza telefonia, comunque la distanza che c'è fra le persone sarebbe stata comunque molto più importante. Un museo da riscoprire oggi forse più che mai, si tratta del MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, che adesso, come previsto dall'ultimo DPCM, ha riaperto le sue porte ai visitatori, ovviamente nei giorni feriali ed in tutta sicurezza. Ci troviamo per fortuna in zona gialla, quindi l'apertura è possibile durante la settimana, quindi il Museo dei Mezzi di Comunicazione è aperto nelle giornate di martedì e di giovedì, dalle 9.30 alle 17.30. Un'apertura è resa possibile comunque dagli uffici del Comune di Arezzo, che hanno pensato interamente alla sanificazione del locale, quindi un ingresso in sicurezza. Ci occuperemo personalmente comunque di garantire una visita appunto individuale, perché appunto la parte dei gruppi è comunque al momento momentaneamente sospesa la possibilità di visita. Una visita su prenotazione consigliata, perché l'ingresso è comunque contingentato, a un massimo di 10 persone per volta, nonostante comunque la vasta superficie del museo, perché sono comunque 500 metri quadri di esposizione, c'è la possibilità di visita di 10 persone per garantire proprio una visita individuale nella massima sicurezza possibile. Al Mumec torna così visitabile la mostra Cento anni di Fellini, un viaggio tra oggetti di scena, foto ed antiche cineprese che ricostruiscono così l'atmosfera del set del maestro del cinema italiano. Dedicata appunto ai 100 anni dalla nascita del grande regista riminese, che è Federico Fellini, un'esposizione che è stata inaugurata il 24 di ottobre, proprio qui all'interno del museo, un'inaugurazione fra l'altro gestita in completa sicurezza, perché anche questa è stata a ingressi contingentati, prolungata proprio per tutta la giornata. Abbiamo avuto però quasi 100, più di 100 persone comunque, in totale sicurezza, ripeto. Però comunque la mostra dal 24 di ottobre della data della sua inaugurazione è stata chiusa il 6 di novembre. Quindi è una mostra, in realtà siamo a gennaio, però praticamente inedita, quindi vi invitiamo comunque tutti a visitarla.